Il protagonista della storia di oggi è padre Jean-Pierre Armand David, missionario, zoologo e botanico francese che dal 1865 al 1869 fu inviato in Cina dalla sua congregazione. Vista però la sua profonda conoscenza delle scienze naturali, oltre all'attività religiosa fu incaricato dal Museo Nazionale di Storia Naturale di Francia di percorrere la Cina con lo scopo di arricchirne le collezioni animali e vegetali. Così nel 1865, mentre si trovava a Pechino, sentì parlare di animali sacri che erano custoditi all'interno del parco imperiale di caccia di Nahaisi, a sud della città. Ma nonostante la sua curiosità, l'accesso al parco era proibito e l'area circondata da 72 chilometri di mura difese dalle guardie tartare dell'imperatore, con l'ordine ben preciso di uccidere gli intrusi. A questo punto la storia ha tre varianti possibili, in base alle varie fonti disponibili. Secondo alcuni, padre David scalò le mura di nascosto, secondo altri si intrufolò all'interno, approfittando di una breccia dovuta a lavori di ristrutturazione, e secondo altri ancora si limitò a corrompere le guardie. Quindi scegliete voi quella che vi piace di più. Comunque sia, la cosa importante è che una volta dentro al parco, assieme ad animali che conosceva molto bene, notò anche un cospicuo branco di ungulati di grandi dimensioni e dall'aspetto insolito. Possedevano infatti una coda piuttosto lunga, terminante in una matassa di pelo ispido, unghie larghe e molto separate, e un palco alquanto particolare con una ramificazione che si protraeva all'indietro quasi parallelamente al dorso. Pensando che si trattasse di renne ancora sconosciuta alla scienza, cominciò a raccogliere informazioni e apprese che il nome con il quale erano conosciuti questi animali rispecchiava in pieno il loro aspetto insolito. Il nome in questione era infatti Sibu Xiang, che letteralmente suonerebbe più o meno come Nessuno dei Quattro. Forse un riferimento al fatto che nei singoli dettagli possedevano tratti in comune con i cervi, le mucche, i cavalli e le capre, pur non essendo considerati nessuno di questi. Con la complicità delle guardie, riuscì anche ad ottenere due palchi di questi animali che spedì al Museo di Parigi, mentre l'anno seguente entrò in possesso di due pelli in discrete condizioni. Appena in Europa si sparse la voce che in Cina vivevano dei mammiferi nuovi per la scienza, i diplomatici di diversi paesi cercarono di ottenere degli esemplari, e grazie al ministro imperiale Hen Chi, i primi tre Sibu Xiang vivi a lasciare la Cina fecero direzione verso la Francia. Purtroppo nessuno di loro sopravvisse al viaggio, ma il medico zoologo Alphonse Milne Edwards ne studiò i resti e nel 1866 inserì la specie nella famiglia dei cervidi, battezzandola e la Furus davidianus. Diede però anche vita a un equivoco arrivato sì nei giorni nostri. Infatti, anche se nelle sue lettere padre David aveva correttamente riportato il nome locale di questi animali, Edwards decise che questo cervo era conosciuto in Cina con il nome di Milu, che in realtà era il nome locale del cervo Sica. Quindi, anche se ormai Milu è riportato in tutte le fonti, visto che Sibu Xiang forse è troppo difficile da ricordare, per me anche da pronunciare in realtà, da adesso lo chiamo cervo di padre David. Ad ogni modo, un poco alla volta, altri esemplari furono inviati dalla Cina in altri paesi e alcuni di loro riuscirono anche a riprodursi, mentre per la popolazione privata dell'imperatore il destino fu funesto. Nel 1895 un alluvione distrusse una grande porzione delle mura e i cervi che scapparono furono uccisi e macellati dalla popolazione affamata. Il colpo di grazia avvenne però cinque anni dopo, durante la rivolta dei Boxer, quando i ribelli invasero il giardino imperiale, uccidendo tutti i cervi tranne uno, che rimase così l'ultimo della sua specie in Cina. In Europa la situazione era di poco migliore, dato che erano rimasti 18 esemplari di cui solamente 11 ancora in grado di riprodursi. Furono così inviati tutti quanti a Herbrand Russell, duca di Bedford e presidente della Società Zoologica di Londra, che nella sua tenuta dell'abbazia di Woburn ospitava numerose specie di ungulati asiatici. Russell svolse un ottimo lavoro, tanto che dopo 50 anni la popolazione di cervi di padre David era salita a 250. Negli anni successivi il numero crebbe ulteriormente e nel 1956 fu anche possibile inviare in Cina degli esemplari nati in cattività e attualmente la loro popolazione nel paese di origine ammonta circa 2000 individui. Questa storia sarebbe avventurosa già così, ma riserva ancora diverse sorprese. I redividi cervi di padre David avevano infatti lasciato aperto un grande mistero. La storia e la provenienza precisa del branco dell'imperatore erano infatti totalmente sconosciute. Il record fossile indicava che erano abbondanti nell'Olocene, in Cina sedentrionale e orientale, ma scomparvero da queste regioni molto molto prima del loro incontro con il missionario. Così lo scenario più largamente condiviso vedeva i cervi di Nanaisi come i discendenti di una popolazione continentale mantenuta in cattività per secoli, se non addirittura per millenni. Ma di recente sono emerse altre novità. A 2300 chilometri a sud-est di Pechino si estende infatti per 34.000 chilometri quadrati l'isola di Hainan, caratterizzata da clima tropicale e subtropicale. Qui sono presenti allo stato selvatico tre popolazioni di cervidi, il cervo di Held, il sambare indiano e il muntiac rosso. Nel 1904 giunse però la segnalazione della possibile presenza di qualcos'altro. I Proceedings of the Zoological Society of London del maggio-dicembre riportarono infatti a firma di Howard Saunders quanto segue. Il signor Oldfield Thomas esibisce per conto del presidente il disegno di un artista cinese raffigurante una cerba e un piccolo di cervo di padre David, provenienti da Hainan. Il disegno è presentato come prova che il cervo di padre David è ancora presente a Hainan. Tale segnalazione fu però prontamente rifiutata da Double T. Blendford in una nota risalente al mese di novembre. Il signor Hughes, attualmente console presso Hainan, scrive che, per quanto possa accertare, il cervo di padre David è sconosciuto nell'isola e che il disegno in questione deve essere considerato come un'opera di fantasia. Viste queste circostanze, nonostante il disegno mostri senza dubbio un ritratto della specie, nessun credito può essere attualmente dato alla presunta presenza di cervi di padre David ad Hainan. Però, oltre ai disegni, sembravano esistere anche prove più tangibili. Ad esempio, nel 1868, Robert Swinhoe riportò dall'isola due pelli di cervo abbattute in natura, all'epoca identificate come cervi di Held e attualmente conservate presso il Museo di Storia Naturale di Londra. Nel 1970, l'ozoologo Ludek Doboruca, basandosi sui motivi a spirale disegnati dal pelame, suggerì potesse trattarsi in realtà di due pelli di cervo di padre David, ma queste ipotesi furono largamente ignorate, almeno sino a qualche anno fa. Infatti, nel 2017, con lo scopo di ricostruire la storia della specie, Samuel Tarbey della Società Zoologica di Londra e il suo team hanno condotto un'analisi del DNA delle pelli in questione, scoprendo interessanti novità. Non solo i due reperti appartenevano davvero a cervi di padre David, ma mostravano anche una bassa divergenza con il DNA dei recenti discendenti del branco dell'imperatore. Poco si può dire su quando l'ultima popolazione selvatica scomparve dall'isola, nella quale era però ancora sicuramente presente quando padre David osservò gli individui in cattività a Hananaizi, ed è verosimile che tale data possa collocarsi intorno al 1920. La conclusione dei ricercatori è che gli individui di Hainan fossero nativi e non importati dal continente, e che proprio da quella popolazione insulare provenissero gli esemplari che gli derò vita al branco dell'imperatore. Qualche curiosità al volo prima di concludere. Il cervo di padre David è caratterizzato da un forte dimorfismo sessuale, in termini di dimensioni. I maschi infatti superano i 210 kg, mentre le femmine possono arrivare a 150 kg. Le unghie, che come abbiamo detto sono molto larghe e distanziate, non sembrano idonee a spostarsi su terreni duri, quanto piuttosto su praterie paludose, e la sua coda è la più lunga tra tutti i cervidi. I maschi inoltre amano adornare i loro palchi di fango e vegetazione, ed è stato persino suggerito che la loro peculiare conformazione sia strettamente legata a questo comportamento. Spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto che questa storia possa insegnare tre cose che mi stanno particolarmente a cuore. La prima, oggi esistono ancora cervi di padre David in cattività, perché uno zoologo curioso decise di rischiare la vita per scoprire quello che qualcuno aveva deciso dovesse restare nascosto. La seconda, oggi non esistono più cervi di padre David in natura, perché purtroppo altri zoologi non furono così curiosi. Infine, la terza cosa è questa, non conservare e non arricchire le collezioni dei musei di storia naturale significa mettere una tomba sulla zoologia. Per oggi è tutto, al prossimo video, ciao!